A Siena, in Toscana, per raccontare la storia della chiesa che non c'è. Il genio di Leonardo da Vinci. La realtà virtuale ci svela i segreti delle sue opere più famose. L'enigma di Villa Italia. La dimora dell'ultimo re d'Italia a Cascais, in Portogallo. Roberto Giacobbo conduce il grande ritorno di Freedom, oltre il confine. Sabato, 21.20, Rete 4. Storie e luoghi indimenticabili ci aspettano.